Venditalia 2024 continua nei corridoi di questa edizione biennale della fiera della distribuzione automatica si incontrano davvero tantissimi amici. Siamo nello stand della GPE Vendors SRL, un'azienda italiana di produzione distributori automatici e abbiamo incontrato un amico, l'amministratore delegato di Fonte Margherita 1845 SRL, Dennis Moro. Caro Dennis è un piacere averti qui sugli schermi di VendinTV.it. Piacere mio Fabio, piacere mio. Raccontaci in un minuto la storia quasi bicentenaria di Fonte Margherita 1845, un'azienda che ha 179 anni di vita. Con grande piacere. Fonte Margherita nasce nel 1845, si trova nelle piccole domenità in Veneto, ha ben tre stabilimenti, cinque acque minerali ed è un gruppo di tre aziende, quindi Margherita del 1845, Fonte Regina Staro del 1904 e Sorgente Alba del 1971. Imbottigliamo alla sorgente nel cuore delle piccole dolomiti queste cinque acque, prevalentemente in vetro con 35 milioni di bottiglie distribuite in Italia e in Europa e abbiamo lanciato recentemente anche un nuovo formato innovativo che è il BRIC, dedicato per il fuoricade e per il canale vending, in ben due formati, il 33 e il 50 CL. Quindi siamo qui oggi anche per continuare a promuovere questo lancio del prodotto nel canale vendica. Come nasce questa idea? Perché avete scelto proprio i formati 33 e 50 CL ma soprattutto il BRIC in cartone? Eh beh, noi nasciamo con un'azienda che imbottia prevalentemente in voto a rendere, facciamo della sostenibilità al nostro mantra e quando abbiamo pensato a un formato innovativo per il canale vending o il fuoricada e escludendo il PET per scelta abbiamo deciso di puntare su questo nuovo innovativo formato a livello europeo in formati 50 CL, 33 CL perché sono adatti proprio per il canale vending e per il fuoricada. Quindi sono dei formati che permettono di essere acquistati e portati con sé e fatti, diciamo, posizionati in una borsa, in auto o in ufficio. Quindi è assolutamente un formato ideale per questo canale. E allora per tutti coloro che desiderano maggiori informazioni relativamente a questi due formati 33 e 50 CL in BRIC. Qual è l'indirizzo di posta elettronica al quale è possibile scrivere, richiedere maggiori informazioni e chissà magari iniziare proprio una collaborazione commerciale? Beh, allora si può andare direttamente nel nostro sito www.fontemargherita.com oppure all'indirizzo commerciale chiocciolafontemargherita.com Dennis Moro, grazie! Grazie Fabio, grazie a tutti!